Buonasera a tutti e benvenuti. Affronteremo questa sera il tema dei migranti, ma sotto il punto di vista chiamiamolo burocratico. Diciamo anche che in questo momento forse non tutti lo sanno, ma la maggior parte dei tribunali italiani sono intasati da ricorsi dei migranti per chiedere comunque asilo politico o qualsivoglia altra forma di tutela. È un fatto importante del quale non si parla, è un'emergenza giudiziaria misconosciuta, pensiamo tutti forse alle cooperative, pensiamo tutti a problematiche diverse che non voglio nemmeno affrontare in questa sede. Ripeto, ribadisco invece il fatto della difficoltà del nostro sistema giudiziario di affrontare le decine di migliaia di ricorsi che i migranti pongono avanti i tribunali. Questo perché? Uno perché vi è carenza di personale, vi è difficoltà nel fare fronte a tutti questi ricorsi e perché tutti questi stessi ricorsi intasano sostanzialmente i palazzi di giustizia, in particolare Milano, in particolare Brescia e danno o le risposte che possono essere date, da un lato possono essere per l'accoglimento, magari nella misura del 40%, ma dall'altro creano comunque lungaggini, termini a difesa, appelli, situazioni di ristagno di queste persone che comunque mantengono la possibilità di rimanere in Italia fino all'esito del loro procedimento. Sono diverse le iniziative poste in essere dai migranti per cercare di migliorare e stabilizzare la loro posizione. Vi sono richieste per il riconoscimento della protezione internazionale, questo si tradurrebbe in un permesso di soggiorno che consente di rimanere sul territorio italiano per 5 anni. Vi sono richieste per ottenere la protezione sussidiaria che dura 3 anni ed è riservata a chi rischia una condanna a morte oppure di essere trattato in maniera inumana o degradante. Vi è la richiesta di protezione umanitaria che dura circa un anno e anche qui deve avere comunque una valenza di carattere umanitario, di essere stato soggetto a catastrofi permanenti o comunque ambientali. Gli esclusi da queste forme di protezione comunque fanno ricorso sempre al nostro Stato, perché? Perché di solito o forse a volte o con una certa frequenza il ricorso viene accolto. Diversamente lo stesso ricorso va anche ad ingenerare una procedura che nel frattempo blocca l'espulsione, una lunga teoria di procedimenti giudiziari si parte dal Tribunale alla Corte d'Appello, la Corte d'Assise con dispendio di energie per quanto riguarda la magistratura, per quanto riguarda l'Avvocatura, per quanto riguarda anche le spese che lo Stato sostiene, perché lo Stato sostiene spese per dare una mano ai magistrati, con i vice procuratori onorari, un supporto per cercare di gestire le norme mole di carte da visionare attentamente. Lo stesso Stato dà e concede tante volte, tantissime volte, il gratuito patrocinio a questi migranti che inoltrano questi ricorsi e quindi vi è un altro dispendio economico da una parte e dall'altra sempre a danno e a carico del nostro Stato. Sono tantissime, sono veramente migliaia soprattutto in Lombardia i ricorsi, ma anche Catania non sta bene, due terzi dei migranti sono sbaccati da quelle parti, sono stati creati dei pool veri e propri per affrontare questo tipo di emergenza. Torino non sta bene, anche qui il procuratore generale ha composto un pool con sostituti, procuratori aggiunti per esaminare tutte queste carte. Capita molto spesso, e questo è anche un dato comune frutto di ponderazione a mio giudizio e a giudizio comunque di tutti coloro che si trovano a trattare questi argomenti, capita molto spesso, dicevo, di visionare i ricorsi del tutto identici. Domande assolutamente similari per quelli che sono i fatti, per quelli che sono i particolari, per quelle che sono le stesse aree del Paese e si teme anche per questo che si possa essere di fronte ad una sorta di organizzazione anche criminale che costruisca tutta una serie di ricorsi ad hoc, tutti identici, tutti per avere la cittadinanza o comunque il permesso di soggiorno o comunque la sospensione della propria posizione in Italia e quindi poter permanere in Italia, diciamo, tra virgolette a tempo indeterminato. Queste pratiche fornite, si dice, anche chiavi in mano, pronte per essere utilizzate un po' in tutta Italia, raccontando sempre le stesse cose, anche questi sono problemi complicati che vanno ad aggiungersi ai problemi delle cooperative, ai problemi della corruzione, ai problemi della movimentazione di denaro che si va a spandere in mille rivoli, oltre agli sbarchi che non cessano sicuramente di essere effettuati sulle nostre coste. Grazie.